Ho risentito BLS che sta attendendo una risposta dall'Agenzia regionale per l'aumento del numero dei treni frontalieri. Sono riuscito a farne inserire uno supplementare alla mattina in occasione del cambio orario. Sto pressando perché venga fatto altrettanto anche per il rientro alla sera. La notizia arriva dall'onorevole PD Enrico Borghi. Il problema è noto e quello dei treni sovraffollati tra l'ossola e il canton vallese con il mancato rispetto della distanza anticontagio per i lavoratori che quotidianamente si recano oltre confine. La denuncia da parte dei diretti interessati anche ai nostri microfoni. Sulla questione nei giorni scorsi Antonio Locatelli del coordinamento frontalieri ha chiesto l'intervento del prefetto del VCO e interessato il presidente Lincio e l'onorevole Borghi. Quest'ultimo riferisce di aver già sabato parlato con il prefetto e con la società. Ha presentato tre interpellanze ai ministeri degli esteri, dei trasporti e della salute ma dal punto di vista gestionale conclude la concessione regionale. Dalla regione l'assessore competente Marco Gabusi spiega che l'agenzia per la mobilità ha chiesto a BLS di mettere più treni ma quest'ultimo ha sottolineato difficoltà in questo senso per mancanza di materiale e personale anche per la quarantena covid. Abbiamo detto di comunicare a tutti incluso il prefetto cosa riesce a fare almeno nel tratto Brigaiselle perché poi possiamo aggiungere un servizio autobus a ferma a Gabusi. Sottolineando uno dei problemi fondamentali in Svizzera non hanno limitazioni di carico come da noi dove i numeri sono dimezzati. I treni elvetici viaggiano quindi con capacità al 100%. Il capogruppo leghista Alberto Preioni aggiunge la situazione è in evoluzione. La regione è impegnata per l'aumento dei convogli con il relativo impiego di fondi. Occorre trovare una quadra e ci stiamo lavorando. Se evitiamo l'innesco della polemica politica arriveremo a una soluzione. I convogli tra Domodossola e Briga vengono utilizzati quotidianamente da circa 700 del migliaio di lavoratori ossolani impiegati in Canton Vallese. La scorsa primavera in emergenza covid BLS aveva aggiunto due treni in più, uno al mattino e uno alla sera negli orari di punta 5.30 e 18. Chiediamo, dice Locatelli, venga fatto lo stesso e che venga aggiunto un blocco di quattro carrozze in più ai treni.